I carabinieri di Caltanissetta, unitamente a quelli del reparto territoriale di Gela e della stazione di Riesi, in esecuzione di due distinte ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno tratto in arresto Loris Christian Leonardi, nato a Mazzarino nel 91 e residente a Riesi, con precedenti di polizia, in quanto ritenuto responsabile del tentato omicidio di Salvatore Tardanico e di una rapina commessa ai danni di un tabaccaio di Sommatino. In arresto anche Romito Vito Manuel Ciccia, nato a Caltanissetta nel 96 e residente a Riesi, con precedenti di polizia per aver commesso la predetta rapina unitamente a Leonardi. Per quanto riguarda il tentato omicidio di Salvatore Tardanico, la vittima, nata a Caltanissetta nel 1979 di professione operaio, residente a Riesi, la notte del 30 aprile 2016, mentre rientrava a casa, è stata attinta da colpi di arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata da uno sconosciuto. Le particolari condizioni ambientali, caratterizzate dall'assenza totale di illuminazione pubblica, la tarda ora e l'assenza totale di testimoni, avevano reso particolarmente problematica l'immediata ricostruzione dei fatti. Anche le condizioni della vittima, rimasta in coma per settimane, non aveva consentito di acquisire elementi utili alla ricostruzione della dinamica, compresa la possibilità che questi potesse aver visto chi aveva tentato alla sua vita. A seguito dei preliminari riscontri investigativi, dichiarazioni testimoniali acquisite nei confronti dei soggetti intervenuti nell'immediatezza del fatto, nonché dai dettagli emersi in sede di sopralluogo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha disposto specifica attività di indagine, finalizzata la verifica all'individuazione dell'autore del fatto di sanque e di eventuali complici, fondata prevalentemente sul movente da cui poteva essere scaturito l'attentato. Le risultanze dell'attività investigativa posta in essere hanno consentito di evidenziare elementi probatori di assoluto rilievo a carico di Loris Christian Leonardi, le cui motivazioni sono andate ricercate nei contrasti con Tardanico per motivi passionali. E parliamo della rapina alla tabaccheria di Sommatino. Il 26 agosto 2016, intorno alle 20 e 40, il titolare dell'esercizio commerciale denunciava di aver subito da parte di due giovani, uno dei quali armato di pistola ed entrambi travisati, un tentativo di rapina presso la sua tabaccheria a Sommatino. I due rapinatori entrati nell'esercizio commerciale avevano minacciato il gestore puntandogli una pistola e dopo avergli strappato una collanina che portava al collo avevano cercato di esportare il registratore di cassa. L'azione non era riuscita a causa delle urla della moglie dell'esercente e della reazione dell'uomo, tanto che due rapinatori avevano lasciato cadere a terra il registratore di cassa dileguandosi a bordo di un'autovettura, condotta probabilmente da un complice. Le attività investigative, grazie ai dettagli emersi in sede di sopralluogo e all'acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno consentito di evidenziare elementi probatori di assoluto rilievo a carico di Leonardi, Loris, Cristian e Ciccia, Romito, Vito, Manuel. Sono risultate determinanti le identificazioni dei due, fatte attraverso l'analisi delle immagini video, perché il camuffamento, consistente in una calza di nylon sulla testa, non ha impedito la comparazione tra i fotogrammi estratti e le foto degli indagati.